Annabelle Montesinos Cominciamo con il giutaio Enrico Bottelli Cominciamo con il giutaio Enrico Il maestro Lucio Antonio Carbone Grazie 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 Il maestro Paolo Coriani Grazie 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 Francesco De Gregorio Grazie 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 Il taglio Tony De Stefano 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 Maestro Lorenzo Frignani Aplausos Aplausos Maestro Romano Gamba Curta Aplausos 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 Il taglio Marco Giglioli Aplausos 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 Grazie a tutti 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 Donatella Grazie a tutti 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 Grazie a tutti